Via Fermi a San Nicolò a Tordino nel 2010 è stata chiusa per un dissesto idrogeologico che si è verificato nel 2009. A distanza di 11 anni a breve riaprirà perché da una settimana sono iniziati i lavori per ritornare alla strada originaria. Sì, per ripristinare i piedi di scarpa del fosso Raganello. Il fosso Raganello è stato interessato da questo dissesto idrogeologico che poi con l'erosione dell'acqua e quindi lo smottamento del terreno ha provocato un restringimento della carreggiata di Via Fermi e Via Fermi fu oggetto di un'ordinanza nel 2010, correttamente così come diceva. Oggi, dopo circa 11 anni, siamo riusciti a riprendere questa situazione e a portarla a far iniziare i lavori per ripristinare non solo i piedi di scarpa ma anche la reggimentazione delle acque per poi successivamente riaprire alla viabilità Via Fermi. La chiusura ha creato in questi anni ovviamente non solo un disagio agli abitanti della via ma anche un danno economico alle attività, che ci sono le attività commerciali. Certo, le attività che sono presenti su questa via hanno avuto un danno economico dalla chiusura di questa strada perché ovviamente impediva la possibilità di arrivare con le macchine al ridosso delle attività commerciali. Devo dire che questa richiesta che è venuta proprio dal territorio dei consiglieri comunali San Nicolau, in primis dal consigliere Lancione, ha trovato ovviamente non solo la disponibilità dell'amministrazione comunale ma anche della regione, perché la regione attraverso il giro civile ha finanziato, ha compartecipato a questa attività lavorativa con 30.000 euro e ulteriori 55.000 euro sono stati messi a disposizione, quindi una compartecipazione all'amministrazione comunale per far sì che il lavoro potesse essere definitivo e quindi ritornare ad una normalità, una tranquillità, ma la cosa più importante è riaprire questa strada in modo tale da rivitalizzare anche le attività commerciali del luogo. Questi lavori erano davvero attesi da tanto tempo? Sì, insomma è una battaglia che finalmente abbiamo vinto, che abbiamo sostenuto fin dai tempi dell'opposizione. Il silenzio delle amministrazioni precedenti, siamo riusciti a mettere insieme tutti gli attori istituzionali competenti con il lavoro congiunto insieme al Vice Sindaco, Giovanni Cavallari, e si è riusciti appunto a raggiungere questo obiettivo. Ripeto, è una battaglia che ho portato avanti per tanti anni con l'impegno di risolverla da sindaco e ci siamo riusciti.